Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Se siete amanti dello stile, ma al tempo stesso della praticità e dell'organizzazione, non potete perdervi assolutamente questo prodotto. Una tasca in ecopelle da poter applicare a tutte le vostre borse o pochette create all'uncinetto. Scopriamone subito i dettagli. Ed ecco qui la nostra tasca in ecopelle, pratica e comoda da aggiungere alle vostre borse handmade. La tasca ha una lunghezza di 22 cm x 17 cm di altezza. Presenta una praticissima cerniera lampo a spirale della lunghezza di 19 cm. In alto troviamo i fori che hanno un diametro di 3 mm all'incirca, che vi permetteranno di applicare comodamente la vostra tasca. Grazie a tutti. Davvero tantissime colorazioni tra cui scegliere, così che possiate abbinarla a tutte le vostre creazioni. Un piccolo elemento, ma super pratico e versatile. Potrete infatti applicare questa tasca all'interno di una borsa, così da avere sempre a portata di mano gli oggetti di uso più frequente, come ad esempio il cellulare, un rossetto o, perché no, le chiavi della macchina o di casa. Grazie ai praticissimi fori sarà semplicissimo, anche per le meno esperte, applicare la tasca all'interno della borsa. Addirittura potrete pensare anche di utilizzare la pochette non inserendola all'interno di una creazione, ma bensì lavorando sui fori di cui è dotata e creando così una pochette perfetta sia per l'estate. Potrete applicare ad esempio anche dei ponticelli sulla lavorazione all'uncinetto e utilizzarla come tracorla, così da avere sempre gli oggetti essenziali a portata di mano. Non vi resta quindi che scegliere il colore che preferite, iniziare a creare e poi ricordate di condividere con noi le vostre creazioni. Vi ricordo infatti del gruppo ufficiale Tessiland, ma anche della pagina a medio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News. Ciao! Ciao!